quando ero piccola una delle cose che mi faceva più paura in assoluto era la lebra e i lebrosi e vi chiederete ma cosa c'entra la lebra con una bambina cresciuta in una cittadina di provincia nel mediterraneo è perché da bambina andavo in chiesa e in chiesa ci riempivano la testa di questi racconti dei fantomatici lebrosi che andavano in giro con gli abiti a brandelli che contagiavano tutti anche solo con lo sguardo infatti erano pieni di campanelle attaccate alle bende vabbè li avete visti anche voi nei film soprattutto i film biblici ma cos'è la lebra la lebra è una malattia si chiama morbo di ansen il nome latino me lo sono cercato è mycobacterium lepre è una malattia curabilissima oggi è una malattia però un po particolare anzitutto perché ha un incubazione lunghissima che va dai cinque ai sette anni quindi impiega tutto questo tempo il bacillo a manifestarsi poi dalle varie manifestazioni che prima di arrivare all'ebroso della bibbia tempo ce ne passa e poi non deve essere nemmeno curato perché ripeto se viene curata la malattia non è non si possono riparare i danni fatti ma si può prevenire appunto la comparsa dei danni quello che rende la lebra così terrificante è il fatto che in tutti i racconti della bibbia soprattutto nel vecchio testamento le persone malate di lebra i lebrosi sono anche delle persone cattive delle persone impure delle persone indegne quindi c'è come spesso accade nella religione cattolica questo connubio malattia è uguale cattiveria se lebroso perché dio ti ha punito perché chissà che cosa hai fatto quindi come si dice cornuto è bastonato però andando a scartabellare a cercare i fatti sulla lebra ho scoperto anche delle cose interessanti e cioè che è una malattia molto antica che risale al che viene probabilmente nata nella zona dell'europa e viene anche trasmessa da alcuni animali infatti hanno trovato uno dei cepi più antichi del genoma della lebra nello scoiatolo rosso quindi si pensa che con il commercio delle pelli dello scoiatolo si sia diffusa la malattia ma un altro animale che trasmette la malattia ahimè è il simpaticissimo armadillo e ho trovato poi notizie contrastanti da alcune fonti dice basta carezzare l'armadillo e se c'è la lebra te la becchi altri dicono no devi mangiare l'armadillo porello non mangiate l'armadillo e ti prendi la lebra comunque non abbiate paura perché la lebra si può curare e soprattutto smettiamola con questo connubio che la malattia è una punizione divina dai l'abbiamo superate queste cose no